Come scendiamo? Ho un'idea. Davvero? Non sorprenderti. Senza offesa, ma penso che neanche Thor con il suo Mjolnir possa distruggere quel ghiaccio. Allora Thor è stolto. Sarà interessante. Ehi! 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 Dietro di te, aspetto! Sta dietro! Atenco alle spalle! No! 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 Dietro di te! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, ehi! Ancora voi! Salite! Wow, è stato fantastico quel... colpo. Tieni, prendi! Hai sprecato una mela perfettamente sana. Come mai non ti ho visto? Non ci sono nascondigli qui. Oh, quello. È un piccolo trucco della mia gente. Un modo speciale per non farsi vedere. Diventi invisibile? In realtà ho il potere di entrare nel regno tra i regni, ma la tua mente non comprende quello che vede, perciò non vede niente di niente. È così che possiamo evitare di usare le armi che fabbrichiamo. Non... non sembra funzionare sui draghi, però. Tuo fratello ha chiesto se mangi abbastanza. Posso dirgli di sì? Brock vi ha chiesto di me? Il fiato gli puzzava di idromele? Me l'hai fatta toccare di nuovo. Forza, andiamo! Ecco perché Brock era nel tempio quando l'acqua è calata. È passato da un regno all'altro. Ok, ora zetti. Mi serve assoluto silenzio per questo. Ecco ti senti. Allora, la tua idea? Non ci arrivi. Conoscendoti, non rimarremo di certo qui. Esatto. Ma come avanziamo? Mi era sembrato che brillasse troppo per essere un cadavere congelato. Allora, la tua idea è un cadavere congelato. Oh! Attento! Il mio negozio è qui! Grazie.